Le più grandi città degli Stati Uniti sono al verde e si trovano in serie difficoltà finanziarie. Mi riferisco a San Francisco, Washington, Seattle, New York, Portland, Philadelphia, San Diego, Chicago e tante altre. Secondo una ricerca effettuata dall'organizzazione No Profit Truths in Accounting, 53 delle più grandi città americane non hanno guadagnato abbastanza entrate per coprire le spese. La situazione d'allarme è stata sollevata di recente dal sindaco di Houston, ovvero John Whitmire, che ha detto senza mezzi termini che la metropoli è al verde. Questo non è un problema che riguarda solo i conti delle città, ma impatta direttamente sulla vita dei cittadini. Infatti la conseguenza di tutto questo sarà inevitabilmente un abbassamento della qualità dei servizi, con strade più sporche, trasporti pubblici inadeguati e tagli a programmi comunali essenziali. Nella città di New York il sindaco Eric Adams ha già chiesto un taglio di spesa del 5% su alcuni servizi che riguardano le strutture igienico-sanitarie, le biblioteche, le scuole e anche le carceri. Ora amici cercherò di spiegarvi meglio quanto sia grave la situazione e soprattutto come si è arrivati a questo punto. Innanzitutto dobbiamo sapere che se una città ha un debito maggiore rispetto alle sue attività, viene calcolata la differenza tra il debito e l'attività. Questa differenza viene poi divisa per il numero totale di residenti nella città. Il risultato di questa operazione è un numero chiamato onere del contribuente, che rappresenta l'importo che ogni residente dovrebbe contribuire per equilibrare il bilancio della città. Questo numero purtroppo sta aumentando vertiginosamente negli USA. Infatti è stato scoperto che in totale nelle 75 principali città degli USA, 53 erano al verde. Pensate che avevano un debito totale di 288 miliardi di dollari. Ma fra tutte la peggiore è risultata essere New York, che aveva un debito pubblico totale di 177,6 miliardi. Gestire una megalopoli di tale portata è un vero salasso, considerando che ha 217 librerie, 472 stazioni della metro, 1700 parchi e oltre 8 milioni di abitanti. Chiaramente per mantenere tutti questi servizi New York deve fare soldi e per riempirsi le tasche sfrutta due diverse fonti principali. La prima è rappresentata dalle tasse e dalle imposte raccolte dai residenti e dalle imprese, mentre la seconda fonte deriva dalle obbligazioni municipali. In pratica funziona così. Quando una città ha bisogno di soldi per finanziare infrastrutture come un ponte o un aeroporto, vende questi titoli di debito agli investitori, che in cambio ricevono un pagamento periodico di interessi. Alla scadenza dell'obbligazione, gli investitori ricevono ovviamente il rimborso del capitale investito. Per le città è facile finanziarsi attraverso le obbligazioni municipali, perché i risparmiatori le comprano volentieri, essendo strumenti a basso rischio che pagano interessi esenti da imposte. Tuttavia il cuore del problema risiede proprio qui. Le città americane si stanno indebitando eccessivamente per due principali motivi. Il primo riguarda i fondi pensione. Un fondo pensione possiamo immaginarcelo come un serbatoio che raccoglie sia i contributi dei lavoratori che quelli delle aziende e li investe nei mercati finanziari con l'obiettivo di generare rendimenti sufficienti per pagare le pensioni ai cittadini che raggiungono l'età pensionabile. Negli Stati Uniti i fondi pensione sono di vitale importanza. Pensate che detengono 5.3 trilioni di dollari in asset, che sostengono oltre 12 milioni di pensionati americani. In tutto questo però c'è un grosso problema. I fondi pensione negli Stati Uniti sono sottofinanziati di circa 1.6 trilioni di dollari. Ciò indica che esiste un divario di 1.6 trilioni tra i fondi attualmente messi da parte per le future pensioni e l'ammontare totale delle pensioni che i lavoratori hanno accumulato il diritto di ricevere. Quindi in pratica mancano all'appello 1.600 miliardi di dollari. Pensate che metà degli stati federali negli USA hanno un livello di finanziamento per i loro piani pensionistici che è inferiore all'80%. Ciò significa che non hanno riservato abbastanza fondi per coprire le pensioni future. Questa cosa può comportare gravi conseguenze finanziarie per gli stati, portando addirittura alla bancarotta di intere città, come già successo peraltro a Detroit. Detroit, una volta fulgido simbolo dell'industria automobilistica americana, ha dichiarato bancarotta nel 2013 con un debito di 18.5 miliardi. Una parte significativa di questo debito era legata ai fondi pensione per appunto. La città aveva promesso generose pensioni ai suoi dipendenti pubblici, ma non aveva accantonato abbastanza fondi per soddisfare tali impegni. Però quando la crisi economica del 2008 ha colpito, Detroit ha subito pesantissime perdite finanziarie con il tracollo dei mercati. In aggiunta, la domanda di automobili è diminuita, causando licenziamenti massicce nell'industria automobilistica. Questo ha ridotto ulteriormente i contributi ai fondi pensione, aggravando il problema del sottofinanziamento. Inoltre, la città ha anche affrontato problemi sociali crescenti, come un aumento della criminalità e il deterioramento delle infrastrutture, che hanno causato un esodo di residenti e hanno ridotto ulteriormente la base fiscale della città, rendendo ancora più difficile per Detroit coprire le sue obbligazioni pensionistiche. Purtroppo sono sempre di più le città americane in sofferenza per questa ragione, e rischiano di deteriorare ulteriormente le condizioni di vita dei propri cittadini. Infatti, se un piano pensionistico è sottofinanziato, lo Stato federale deve trovare delle soluzioni per coprire le pensioni future. Questo potrebbe includere l'aumento delle tasse, che non fa mai piacere, la riduzione dei servizi pubblici, servizi sanitari scadenti, aumento dai senza tetto, calo della frequenza universitaria e anche problemi di criminalità. Di fronte all'emergenza delle pensioni sottofinanziate, le città americane si vedono costrette a ricorrere a prestiti dagli investitori. Però l'emissione di obbligazioni municipali sta solo aggravando il loro debito, rendendo la loro situazione più precaria. Oltre al problema delle pensioni, vi è un'altra minaccia che sta mettendo a dura prova le casse delle città americane. Mi riferisco, ragazzi, alla silenziosa ma pericolosa crisi del mercato immobiliare e commerciale. Questa crisi si è innescata a causa di una serie di fattori concatenanti. L'infuriare della pandemia e la diffusione dello smart working hanno ridotto la domanda di spazi commerciali a tal punto che oggi in America quasi il 20% degli uffici sono vuoti. Allo stesso tempo, l'aumento dei tassi ha messo in crisi sia i proprietari immobiliari che le banche. Infatti i proprietari non sono in grado di generare abbastanza entrate dagli affitti per coprire i mutui ipotecari, mentre le banche rischiano di non riuscire a recuperare i prestiti concessi a causa della diminuzione dei prezzi degli immobili commerciali. Tutto questo ovviamente affligge anche la salute finanziaria delle città per diverse ragioni. Infatti le città dipendono in gran parte dalle tasse sugli immobili per finanziare i servizi pubblici. Per cui quando il valore degli immobili commerciali diminuisce, anche le entrate fiscali delle città calano di conseguenza. Questo è ciò che sta accadendo per esempio a Boston, che sta affrontando un deficit di 1.5 miliardi dovuto al calo delle tasse sulla proprietà commerciale. In aggiunta, questa crisi sta portando alla chiusura di numerosi negozi e uffici, causando perdite di posti di lavoro. Questo ovviamente riduce ulteriormente le entrate fiscali e aumenta la pressione sui servizi sociali della città. Quando pensiamo agli Stati Uniti immaginiamo subito i soldi, il sogno americano, le celebrità e le ville di lusso. Ma la realtà dei fatti è ben diversa. Anche se gli states sono la prima potenza mondiale, le loro fondamenta sono più precarie di quanto si possa immaginare. Ogni anno spendono molto più di quanto incassano e così galleggiano su un debito nazionale che a breve toccherà i 35 trilioni di dollari. Poi vogliamo parlare della questione dei senza tetto? Ragazzi, ci sono 600.000 persone senza fissa dimora negli states che vagabondano sulle strade delle città più iconiche, tra cui New York, Los Angeles e San Francisco. Ma ancora più rilevante è il problema del debito studentesco, che alla fine del 2023 era di circa 1.700 miliardi di dollari. Parliamo di una cifra davvero mostruosa. Il debito studentesco rimane un problema grave e molto percepito dalla popolazione, poiché spesso chi contrae questi debiti se li porta dietro per il resto della vita. Ragazzi, che dire? Lascio a voi il commento. È vero che l'Italia è malata, ma gli Stati Uniti forse, dico forse, sono ancora più malati di noi. Per oggi è tutto, ci vediamo nei prossimi video. Ciao!